salve a tutti benvenuti in un nuovo video torniamo a parlare di campioni nuovi per quanto sia ridicolo definirli nuovi dopo due settimane tre ormai per quanto sono passate io avrei voluto fare questo video ancora la settimana scorsa settimana durante la quale insomma non ero presente qua in italia però non ci sono riuscito insomma sono riuscito a produrre tutti gli altri video sui campioni nuovi quelli legati all'evento di monster hunter ma non sono riuscito a parlare del nuovo mitico quindi oggi parliamo del nuovo mitico androck allora campione che si aggiunge alla ormai cospicua dose di mitici che sono stati rilasciati ormai siamo quasi ad un campione per fazione e quindi adesso abbiamo androck allora io speravo tanto che scegliessero un campione della lore già esistente di raid e che quindi come campione mitico ci fosse re taiba come sapete il re di kerok si chiama taiba e il capo dei gonfalonieri è il re e quindi il mitico poteva essere re e invece no abbiamo un condottiero generico dei gonfalonieri e va bene così campione tipo difesa che diventa di tipo assistenza nel momento in cui passiamo alla sua forma alternativa esteticamente molto molto gradevole e con delle statistiche spaventose perché ha tanta tanta velocità una difesa base assurda e un buon hp sul quale ci può costruire una bella corazzata gigante quindi niente niente male allora vediamo che cosa fa con la sua un attacco nemico piazza un aumento difesa del 60 per cento su tutti gli alleati per un turno molto interessante il debuff dura un turno solo ce ne rendiamo conto ma comunque potrebbe permettere i nostri alleati di tencare e comunque la sua 1 la utilizzerà spesso quindi tanto di guadagnata su tutti i buff in più con la sua a2 attacca tutti i nemici aumenta di un turno la durata di tutti i buff sugli alleati inoltre guarisce tutti gli alleati per il 4 per cento dei loro massimi hp per ogni buff su di loro la cui durata sia stata aumentata quindi attenzione perché non tutti i buff è possibile estendere la loro durata come inammazzabile blocca danno quindi per questi particolari buff non riceveremo dei bonus ma per quanto riguarda invece tutti gli altri ci sarà della cura extra niente niente male diciamo che un campione questa versione sono questa forma del campione pensata per lavorare intensamente con i buff la caratteristica che troviamo anche nella sua a3 poi perché infatti andiamo ad aumentare la resistenza mettere un potenziamento mettere una guarigione continua ed una eventuale guarigione continua extra nel caso in cui l'avversario l'alleato scusate abbia meno del 50 per cento di hp questa è una destrezza molto interessante in realtà che conosciamo meglio più che questa destrezza conosciamo il tipo di strategia che sta dietro a questo tipo di destrezza grazie a oella campione che nel momento in cui dovevamo fonderlo non sembrava così interessante molti non hanno fusa altri invece ci hanno creduto hanno tirato fuori anche dei risultati abbastanza dignitosi contro l'idra resta secondo me un campione utile ma non fondamentale insomma quindi se non l'avete fusa non ci piangerei sopra però comunque è un campione sul quale si possono costruire delle strategie conservative per il team molto interessanti e questa destrezza fa la stessa identica cosa è chiaro che dovrò curare un pizzico la resistenza di tutto il mio team perché in un ipotetico fight contro l'idra per esempio la testa che strippa non andrà a puntare il nostro androk che comunque ha tutta una serie di difese che gli permettono di non farsi strippare e le vedremo poi quella passiva andrà a puntare gli altri quelli che verranno baffati di più per esempio in questo caso verranno baffati di più coloro che si trovano con pochi hp il nuker di turno che però di solito non si fa con molta resistenza ciò significa che dovrò alzare un po' l'asticella per quanto riguarda la resistenza su tutti i campioni del mio team però non tanto perché il buff aumenta resistenza che è molto molto interessante non è male come scelta devo dire abbiamo poi metamorfosi naturalmente è una skill attiva quindi posso cambiare forma quando mi pare e infine ho la passiva che abbiamo già citato aumenta di 10 punti la resistenza di questo campione per ogni buff su ciascun alleato questa è una cosa molto molto valida sarebbe ancora più interessante se lui mettesse un ipotetico buff self quindi che ne so ha uno scudo che mette solo su se stesso o una serie di buff protettivi che mette solo su se stesso per esempio mette l'aumenta resistenza potenzialmente la guarigione continua su tutti e su se stesso uno scudo e un aumento difesa quindi ho due buff in più rispetto agli altri e allora sarebbe molto interessante perché grazie all'aumenta resistenza e alla resistenza extra che prende per i buff che ha addosso diventa impossibile da strippare sarebbe molto molto interessante in questo caso invece non funziona così cioè funziona così però non è detto che venga mirato lui quindi attenzione ma comunque è un'ottima passiva ottima anche la seconda parte per la quale ciascun colpo decisivo inflitto degli alleati riempie del 5 per cento il contatore di turno di tutti gli alleati e questa è tanta tanta roba rende tutto il team molto molto più fluido molto molto più dinamico mi ricorda per certi aspetti la passiva e le destrezze in generale di neck motar quindi molto 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 valido passiamo poi alla sua forma alternativa che guadagna hp perdendo un pizzico di difesa resta invariata la velocità comunque molto molto interessante come statistica dal punto di vista della tencosità e troviamo un campione che abbiamo già rivisto dal punto di vista della filosofia in altri come crixia ecco campioni che in una fase in una forma fanno determinate cose nella loro forma alternativa fanno l'esatto opposto quindi abbiamo una riduzione della difesa con la 1 abbiamo una riduzione della resistenza un indebolimento e un fiaccamento con la 2 ricordatevi che il fiaccamento non può essere inflitto ai boss quindi non potremo infliggere questo debuff all'idra per esempio questo ne limita un po' l'uso ma comunque non è un grosso problema non importa si può utilizzare in tanti altri contesti sicuramente con la sua a3 poi rimuove tutti i buff da tutti gli avversari infligge danno puro a ciascun avversario per il 5 per cento di massimi a capitale obiettivo per ciascun buff rimosso questo danno non può risultare decisivo inoltre piazza on the buff blocco buff su tutti gli avversari privi di buff per due turni allora abbiamo un danno pari al 5 per cento di massimi hp cioè un veleno praticamente che viene attivato nel momento in cui lui strippa che è buona come cosa contro l'idra capita che le teste si riempiano di buff in particolare quando la testa che strippa riesce a strippare ma in ogni caso insomma capita la protezione alleato il blocco debuff capita il rifletti danno che sono tutti buff fastidiosi pericolosi per il nostro team e allora lui va a toglierli non solo aggiungere un po' di danno extra l'unico danno tra l'altro che vale la pena far fare al nostro androk perché questo campione non ha moltiplicatori molto elevati ha una difesa di base assurda ma comunque non ha dei moltiplicatori elevati quindi non vale la pena curare il tasso e il danno e in questo caso ulteriormente non ne vale la pena visto che questo colpo non può essere decisivo ma comunque saranno dei danni extra che possono influire possono aiutare il nostro androk a contribuire ai danni finali andiamo poi a mettere un blocco buff per due turni sappiamo quanto questo possa essere utile contro l'idra in particolare quando la destrezza prima strippa e poi va a mettere blocco molto molto interessante come passiva aumenta di 10 punti la precisione di questo campione per ogni buff su ciascun avversario attenzione ciascun colpo decisivo inflitto dagli alleati riduce del 5% il contatore di turno di tutti gli avversari e questo mi dispiace un po' perché non possiamo ridurre il contatore di turno della stragrande maggioranza dei boss ormai quindi ha poco senso questo è un campione da pve che si può utilizzare in pvp probabilmente per questa destrezza qui però lascia un po' il tempo che trovo onestamente io lo utilizzerei dall'idra se lo avessi e questa forma qui in generale la vedo un pochettino meno performante rispetto alla sua forma primaria questa è una cosa positiva per noi perché possiamo decidere di concentrare i nostri tomi qui e i nostri sforzi qui pensare ad una build che possa dare il meglio al nostro andro pensando a quello che fa con questa forma in questa forma non ha bisogno di precisione per lavorare ciò significa che potremmo completamente ignorare la statistica per concentrarci sul resto resistenza per esempio oltre a tutto il resto potrebbe fare molto molto comodo oltre ad una velocità di base sostenuta ma parte da 110 quindi sono sicuro che non sarà un problema non sono in molti ad averlo trovato mi auguro che lo possiate trovare anche voi è chiaro che quando apri una scheggia mitica il sogno è sempre Crixia perché me ne rendo conto ma se ti esce andro io credo che dovreste essere contenti bene signori allora veloce disamino del campione voglio sapere la vostra se l'avete trovato in questa settimana e mezza abbondante da rilascio anche due credo se invece non l'avete trovato se vi piacerebbe trovarlo insomma fatemelo sapere poi mi raccomando iscrivetevi al canale accendete la campanella in questo modo terrete lontano il dottore perché iscriversi al canale del Bradivo Furioso è più efficiente di mangiare una mela al giorno e infine signori come sempre siate furiosi ma rimanete Bradipi grazie a tutti 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 grazie a tutti